Ben trovati con il TG List di Telebari. L'incidente mortale questa notte sulla provinciale 236 che collega Bari con Santeramo in colle all'altezza di Cassano delle Murge un'auto con a bordo due giovani, un ragazzo e una ragazza di 24-21 anni, Francesco e Greta, è finita fuoristrada sfondando il Gardelail e precipitando da un cavalcavia. L'impatto molto violento non ha lasciato scampo agli occupanti del mezzo nonostante l'intervento tempestivo del 118 e dei vigili del fuoco. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Un detenuto del carcere di Bari ha tentato di togliersi la vita la scorsa notte ma è stato soccorso e salvato da un compagno di Cella che avrebbe praticato un massaggio cardiaco. Nell'istituto è poi intervenuto il 118. L'uomo avrebbe tentato di impiccarsi mentre gli altri dormivano. I rumori hanno fortunatamente svegliato uno dei compagni che quindi prontamente intervenuto. Il sindaco di Bari Vito Leccese ha chiesto al direttore generale del comune di predisporre una ipotesi di disciplina generale che miri ad una regolamentazione degli esercizi di somministrazione. L'obiettivo è definire le aree urbane da sottoporre a tutela all'interno delle quali l'avvio delle attività sia sottoposto ad autorizzazioni. Nell'intento dell'amministrazione tale disciplina condizionerà il rilascio di autorizzazioni a nuovi esercizi, alla verifica del rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi in modo da evitare che l'apertura di nuovi esercizi commerciali di somministrazione possa generare un danno alla vivibilità dei luoghi. Finestre crollate, lavandini intasati in tonaco che si stacca, impianti pericolosi, non aspetteremo di farci male tra i banchi di scuola. E' quanto dichiarano gli studenti del liceo artistico Denittis che lunedì si sono astenuti dalle lezioni per protestare contro le condizioni in cui versa la scuola. Sulla situazione la preside Santa Ciriello replica. Sono molto dispiaciuta, nei giorni scorsi ho incontrato più volte i rappresentanti di istituto mostrando loro la progettazione che si sta realizzando per la nuova scuola Denittis alla caserma di Corso Sonnino. Il Policlinico di Bari si riconferma per il terzo anno consecutivo come il centro di riferimento regionale per il trattamento del tumore alla mammella con un totale di 462 interventi chirurgici eseguiti per tumore al seno. I risultati arrivano alla vigilia d'ottobre, mese dedicato proprio alla prevenzione del tumore del seno. Questo risultato è il frutto del grande lavoro di squadra di tutti gli operatori coinvolti, sottolinea il professor Marco Moschetta, coordinatore della Breast Care Unit del Policlinico di Bari. La nostra missione è garantire alle donne un percorso di cura completo e personalizzato. Più di 41.000 le prestazioni erogate nel 2023. La giornata ventilata e il tempo incerto non hanno scoraggiato i visitatori nella prima domenica della 87esima campionaria internazionale in programma Bari fino al 6 ottobre. Tra lunghe code all'ingressi e qualche disagio organizzativo, nella prima mattinata sono stati venduti circa 1.600 biglietti, a cui poi vanno aggiunti quelli online. Non solo stand e aree espositive, edilizia abitativa, showroom delle concessionarie e la tradizionale galleria delle nazioni. Quest'anno in forma rinnovata, la prima giornata è stata dedicata alle prospettive della economia del mezzogiorno. 8 persone a bordo di una barca vela sono state tratte in salvo dalla capitaneria di porto di Barletta domenica pomeriggio. Erano a 3 miglia a largo del porto di Trani con timone e motori in avaria. Dopo l'allerta è immediatamente scattato l'intervento di salvataggio con rimorchiatore e peschereccio ormeggiati nel porto di Barletta. L'operazione non è stata semplice per le condizioni del mare, è molto mosso e a causa del forte vento. Una volta raggiunta l'imbarcazione in avaria è stato ripristinato parzialmente il motore ed è stata scortata fino all'ormeggio in sicurezza nel porto di Trani. Un assalto a un furgone porta valori poco dopo le 7 di lunedì mattina ai danni di un mezzo blindato. Il gruppo ha sparato diversi colpi ai danni del parabrezza del mezzo. L'episodio si è verificato nel tratto della Statale 16 in direzione nord all'altezza di San Ferdinando di Puglia. Sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, i rapinatori non sono riusciti a portare via il bottino, non ci sarebbero feriti ma ci sono stati alcuni incidenti causati dall'ingorgo sulla strada. Un uomo di 45 anni è stato ferito con colpe di arma da fuoco sempre a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi ed è in gravi condizioni. L'uomo è ricoverato all'ospedale Perrino di Brindisi dove è stato sottoposto ad una serie di accertamenti. A quanto si apprende, il 45enne sarebbe stato colpito all'addome. L'episodio su cui indagano i carabinieri si è verificato in una zona centrale di Francavilla. I militari hanno già acquisito diverse testimonianze per ricostruire l'accaduto. In arrivo in solitaria che premia un'azione di forza che ha permesso al vincitore prima di agganciare il gruppo di fuggitivi e poi di staccare tutti a 30 chilometri dal traguardo. E Giovanni Loiscio, 27 anni, pugliese di La Terza, il vincitore della quinta edizione della Gran Fondo Campania. La gara di ciclismo organizzata dall'associazione sportiva Black Panthers di Francesco Vitiello per la prima volta si è svolta interamente sul territorio di Avellino con arrivo e partenza da Montella e l'attraversamento di 18 comuni. E con il TGLIS è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento. Grazie a tutti.